Spendere 50.000 dobloni circa per prendere in accesso anticipato la Bungo ovviamente non ha alcun senso L'abbiamo fatto? Ovviamente sì Andiamo a vedere oggi la recensione della nuova corazzata giapponese in accesso anticipato Lo sottolino, io ho fatto quella cosa perché devo registrare il video, ho un canale da mandare avanti La baracca insomma, dobbiamo pur gestirla Ebbene, oggi andremo ad analizzare i diversi aspetti che compongono le caratteristiche Vediamo sta Bungo La Bungo ci dice che abbiamo un'integrità di 82.800 punti Va bene, protezione siluro, riduzione danno 36% Cannoni da 457 che ricaricano ogni 26.4 secondi tramite il potenziamento batteria principale modificata 3 cannoni secondari inutili da 100 e da 140 Incursione aerea per attaccare i sommergibili fino a una distanza di 11 km Difesa contraerea ancora una volta non il tasto forte della nave Anche se abbiamo danno delle esplosioni dei proiettili ne abbiamo 8, 8 esplosioni, ok Con il 1.16 a 7 e il continuo 366 Manovrabilità 31.5 la velocità massima Pare del timone molto pesante Mimetizzazione 12.1 Niente di nuovo rispetto agli standard giapponesi Particolarità della nave Abbiamo il velivro da ricognizione con ottiche ad elevata precisione Che fa sto coso Portata a batteria principale più 10% Ok La cosa veramente importante Dispersione massima dei colpi della batteria principale meno 20% Qui signori secondo me stiamo un pochino esagerando Ok perché meno 20% Ha dei cannoni da 450 Ma che... perché? Ok Andiamo a mettere ovviamente il modificato 1 più 30% Dobbiamo far sì che il velivolo rimanga in volo il più tempo possibile Per poter beneficiare dei bonus Sistema di controllo danni modificato 1 Precisione Sistema di puntamento modificato 1 Sistema di controllo danni modificato 2 A fine video Apro una parentesi E poi Obbligatorio Sistema di mimetizzazione modificato 1 Andiamo inoltre a vedere il capitano Yamamoto Isoroku Se ce l'avete potete metterlo Il capitano speciale è sempre consigliato Perché potreste attivare uno dei talenti O facendo il Kraken In questo caso con questo capitano Oppure con la prima kill Di più Allora Come sempre saprete Se mi seguite lo saprete Io ho solitamente i capitani Disposto da una nave all'altra Quindi spesso e volentieri I capitani che vedete Non sono propriamente quelli indicati per la nave Però vi dico quello che bisognerebbe mettere in teoria Partiamo dall'inizio Manutenzione preventiva ci sta tutta Quindi va bene Al posto di esperto di demolizioni Mettete Specialista delle riparazioni d'emergenza O ancora potreste decidere di rimettere Specialista di consumabili A voi la scelta Ingrassatore di equipaggiamento è abbastanza importante Perché le retorrette saranno troppo lenti Altrimenti E vi assicuro che Devono seguire un pochino Il nemico Ancora di più con questa nave Rinvigorimento In realtà È una skill Che Ci sta da un'altra configurazione Di un'altra nave Però Qui sinceramente Bersaglio prioritario Ve la dà come consigliata Non è una scelta del tutto errata Mettere vigilanza Oppure Esperto in difesa Contraere antisommergibile Per avere tempo di preparazione Di ricarica riconsumabili Della nave Meno 15% Ci potrebbe stare In definitiva Una di queste quattro Mi verrebbe dire Che nessuna È realmente Errata Scarica di adrenalina È obbligatoria E poi le ultime tre Ovviamente Sono Anche qui Obbligatorie Non O per meglio dire Tempo di ricarica Della batteria principale Meno 5% Quando bruciate In realtà Poi subite Troppi danni Perché magari Non riparate Perché volete Sporare più veloce Secondo me Bisogna gestire Anche gli incendi In maniera accurata Ecco perché Esperto di prevenzione Di incendi È la scelta più giusta Abbiamo la mimetica Quella lì Insomma Com'è che si chiama Col dragone Qui che esce dalla nave Che è fantastica Si chiama La Mizuki O la Mizuchi Non so come si pronuncia Ok E poi Siamo anche nel porto Di cure Che è stato addobbato Appunto Con i dragoni Che vo È tutto bellissimo E inoltre Le bandierine Jolly Rogers Che non abbiamo acquistato Bensì abbiamo Sudato Come sempre Bandierine Da combattimento Mettete tutte quelle Che vedete E bonus economici Ovviamente Mettete tutti quelli Blu Se possibile Ragazzi Prima di Adentrarci Nel video Verre e proprio Nel gameplay Mi raccomando Se questi contenuti Sono di vostro interesse Vi piace il mio Intrattenimento E non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Così non perdete Nessuno dei miei video Se volete provare il gioco Tra l'altro Completamente Peratutto Come ben saprete Però Con il link In descrizione Avrete alcuni vantaggi Per iniziare la vostra esperienza Su World of Warships Direi che ho fatto Una bella introduzione Mi congratulo Con me stesso Andiamo a vedere La Bungo Si chiama così Che dobbiamo fare Andiamo a giocare Una partita Con la nostra Corazzata Bungo Siamo in una mappa Due sorelle Modalità Supremaziale Cinque corazzate Cinque incrociatori Due caccia Torpedinieri Allora 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 Niente Sommergibili Purtroppo Mi verrebbe da dire Mi sarebbe piaciuto Attaccare Qualche Sommergibile Però Purtroppo Non ci sono Arugumo Il nostro Forest Gump 74 Dovrà vedersela Contro Un Sommers Oppure Uno Smelland Dunque Radar Uno Due Forse Tre Con Minotaur Tre Sicuramente Con lo Smelland Noi ne abbiamo Uno E due D'accordo Quindi da questo punto di vista Siamo un po' Penalizzati Lirian È una buona nave È un buon Incrociatore C'è tanti siluri Di profondità Destra Sinistra Con ricarica Ok Quindi può veramente creare un muro di siluri Con così tante corazzate Sicuramente può essere un deterrente Però deve fare attenzione perché se viene spottato a inizio partita Non so per quale assurdo motivo Risca di essere one shottato Ancora prima di poter fare mille punti d'anno D'accordo Quindi Ripeto La nave è buona però Siamo sempre al solito discorso Arugumo non devi avere paura So che viene spottato a 6.1 Però se non vai tu Chi va? Ho messo sull'aerospotino Per avere una maggiore precisione dei cannoni È una cosa scandalosa Però le HL soffre tanto Uuuuh Mi ha sparato la slava Mi ha one shottato la slava No non mi ha one shotta Grazie Zao per aver partecipato alla partita Verrà ricordato Sto cercando di bilanciare i cannoni Per sparare prima Se lo prendo lo one shott Mettiamo a zero Oh questo con me ce l'ha Mi prende in pieno lo sai Ah io l'ho preso a quello Ma anche lui mi prende Miseria ladra Sono completamente aperto Valutato male Forse questo colpo non dovevo farlo Fortunatamente la bassa rilevabilità della nave Ci leva da una situazione un po' incresciosa In cui ci siamo messi Potevo evitare quel colpo oppure fare una virata secca a sinistra Tutti i calcoli del caso Aspettiamo che spari Proviamo Non è stata forse una bella idea Colpi passano Allora Ci dobbiamo riposizionare Ma che è il 2007 Aspetta 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 Che stiamo facendo una manovra che non mi piace Devo andare in realtà dall'altra parte E incrociare lo scale Non lo small scale Massima potenza Non facilissimo come colpo Ci proviamo E qua ovviamente senza propulsione Buonanotte e sogni d'oro Abbiamo mancato la grande Moskva Ti è andata bene una volta Non sfidare la sorte Fra Un po' corto Ho fatto una virata Pazzesca ha fatto Era in virata secca Ma sta slava che continua A rompere Irian è il tuo turno Secca a destra Non siamo sul bordo mappa Non ci allontaniamo Per evitare Per evitare Qualsivoglia Discussione Del bordo mappa Io non l'ho mai utilizzato Il bordo mappa Non posso dire la stessa cosa Di alcuni personaggi Ho parecchi Non green screen Screen Che fanno vedere Sta cosa Però vabbè Mi rendo conto Che non tutti siamo signori Fra Ce l'hai dietro? Ma Fra Ce l'hai dietro? Fra Oh Sveglia Non lo vede Ma Lirian Lirian veramente non l'ha visto Non ho capito Veramente Oh Sta slava Mi sta rompendo le scatole Vuoi vedere che dobbiamo fare Lo scontro frontale Frontale Insomma L'arugumo Mi deve gestire Quel mosca Però Lirian veramente C'è Gli darei una pacca Di incoraggiamento Per dire Complimenti Questa cosa Non l'ho mai vista fare Da nessuno Tu sei il primo C'è proprio Non se ne è accorta Virata Secca a destra Solo una Sì ma Non c'è stato niente Interessante Fino a questo momento Tranne No One shot Per portare la slava Stiamo un po' Un po' Sognando Un po' difficile Però se lui si va A schiantare là Devo provare Uno scontro Un po' più Il Napoli Mi spara Prende coraggio 9-4 Le mie secondarie Questo scontro Ravvicinato Sinceramente Non lo volevo fare Sono un po' Costretto Andasse un colpo Sulle torrette Miseria Secondario For the win Vi sbrigate A virare A girare Torrette Schifose Cioè Devo essere pronto All'appuntamento Lo fa prima Lui Lo so che c'ho Il dd a destra Non è che non lo so Dai Ma solo cittadelle Nessuna kill Ma che sta Sta cafonata Virata secca a sinistra Comunque La nave Ovviamente Sul corto Medio raggio Non serve a niente Dovete sparare Sulla distanza Dovete stare Belli tranquilli Qui si è vista Un po' No? Tutta la situazione Un po' macchinosa La situazione Vediamo Sul Napoli Se ci Fai Infatti Un radar Sul Sul Napoli Napoli Oh Lui se la vuole Si vuole fare Tutta la mappa L'hai lanciati? Oh yes Baby No Non mi può One shotare Dai Sono io Quei one shot A lui Oh Bello resistente Il Napoli Mi diverto troppo Mi diverto troppo Questo gioco Mi diverte troppo Sono otto anni Che ci gioco E ancora mi diverte Ma che partita È stata questa? Non ha senso Quello che è successo Non ha veramente Senso Zero senso Una schifezza totale Quello che ho visto Non so se Da chi vogliamo partire Dall'Irian Io guarda Metterei E qui dobbiamo Arrivarci Ma non fatelo Per me Non fatelo Per me Non fatelo Per il canale Veramente Proprio 500 Mi piace Per la giocata Dell'Irian Io non ho mai visto Una schifezza Del genere Con tutto il rispetto Parlando E anche io Le faccio Però voglio dire Missile Ladra C'è Era palesissimo Il movimento Dello Smalland No? Vabbè Mò quello Non ce la faccio più Apre Miseria È stato Poi a un certo punto Ho detto Aspetta Che cosa sono Questi siluri dietro? Ormai aveva preso Quattro schiaffoni Nei denti Proprio È stato Quasi one shot E poi Lo Smalland Si è preso il lusso Di chiuderlo a cannoni Quindi vogliamo parlare Dell'Irian O vogliamo parlare Della Slava Che a un certo punto Lui ha fatto Un bel movimento Poi ha detto Me ne vado No Perché me ne devo andare Mi butto dentro Di Da solo Da solo C'ero io C'era il Des C'era la Ruguma Quindi sei già In svantaggio numerico A meno che tu Non sia Non so Ok Anche il giocatore Più forte del mondo Non la farebbe Quella giocata A meno che non One shot il Des E poi dice Vabbè sai che c'eri buono Mi vado a arrammare La corazzata Se ci arrivo Se ci arrivo Ma non ci arrivi Non ti facciamo arrivare Comprì Ignifugo Un colpo devastante 8 cittadelle Un incendio Con le secondarie For the victory Japan E Una kill Un'incapacitazione 54 colpi Messi a segno 206.000 danni Per la seconda partita In assoluto Della Bunga Devo dire Che non è male Siamo arrivati I primi Ovviamente Sì Abbiamo fatto Più di 2500 Base Ovviamente Ovviamente Sì Qua siamo Sui Un po' difficile Calcolare Perché Un'assistenza 8 cittadini 8 cittadini Il colpo devastante Lignifugo Quello Ma ho sparato Io ho preso Quello 2738 Forse è troppo alto 2738 Eh vabbè Ho sparato Troppo alto Me ne rendo conto Ci dobbiamo accontentare Di un umilissimo 2002 Effettivamente 2007 Forse ho bevuto un po' troppo E non bevo Lirian Io Lirian Ti devo fare Il ben fatto Te lo meriti Proprio Fra Il ben fatto Rapporto dettagliato Abbiamo fatto male Essenzialmente Al Napoli Alla Slava Al Moskva Potevamo fare Un devastante Sì Alla Zao Potevamo fare Un devastante Sì Però il gioco Ci ha detto Che Dobbiamo accontentarci Di un devastante Crediti Levate le varie spese Portiamo a casa 1.032.000 Con l'account premium Senza account premium Portiamo a casa 631.000 Crediti Che comunque sia Una bella Cifra Al netto ovviamente Dei modificatori Che vengono Conteggiati Torniamo nel porto Vorrei spendere Due parole Sulla Zao Quel giocatore Ha quasi Ok 40.000 Partite Ripeto 40.000 Partite Io ne ho 16.000 Lui ne ha Più del doppio Rispetto alle mie Mi rendo conto Che una manovra errata Ci può stare Quindi Era per dare Semplicemente Un piccolo dato Un altro dato Però ancora più importante E profondo È il fatto che L'aereo spottino Fa diventare I nostri Cannoni Da 457 Proprio Dei raggi laser Dove Il nemico Non ha Praticamente Possibilità Al netto Che Forse ho sbagliato Qualcosina O Sono stati Troppo fortunati Loro Il Moskva E la Zao Come ho detto Prima Potevano essere Altri due Devastanti D'accordo Questo ci fa capire La potenza Della nave Possiamo pensare Di avvicinarci Un tantino Ok Quindi Cogliamo Alla sprovvista L'avversario Come è stato In questa circostanza Diamo la legnata Però poi Ci dobbiamo Ritirare Problema Il fatto Di non avere La propulsione Ovviamente Se dobbiamo Fare questa cosa Il sistema Di controllo danni Modificato 2 Ci rallenta Perché poi Finché riprendiamo Velocità Ci mettiamo Tre ore Se uniamo Poi anche La pala del timone Che ci mette Altre tre ore Per virare La giocata La giocata È un pochino Rischiosa Quindi Il sistema Di controllo danni Modificato 2 Ci va A ricordare Ancora una volta Di dover rimanere Sulla lunga distanza Ok Zona ideale Per giocare Come sappiamo Le giapponesi Ma ancora di più La bungo Le armi secondarie Ovviamente Hanno Avuto un ruolo Marginale In questa partita Specifica Perché non possiamo Pensare di giocare Questa nave Con le armi secondarie Il gioco Ci ha provato Più e più volte A darci delle armi secondarie Sulle corazzate Giapponesi Con scarsi risultati È proprio Secondo me Un qualcosa Di incompatibile O perlomeno Dove essere strutturata In maniera diversa Non so come Però attualmente Non mi sento Di dire Che le giapponesi Possono giocare Le secondarie E di sicuro Non è il caso Della bungo È un discorso A 360 gradi Fatto sta Che è una nave Sicuramente interessante Ma quello Che la rende interessante Che la diversifica Rispetto alle altre È appunto L'avere Questo velivolo Da ricognizione Con ottiche Ad elevata Precisione Qualcosa di unico Attualmente All'interno Di World of Warships Ragazzi Il video è terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like e i commenti E le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo Poi nel prossimo Gameplay Ciao 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 Ciao